Un volume fatto di pensieri e scambio di opinioni, di amicizie e di digressioni interiori. Al Barion di Bari è stato presentato Il sogno di Dio da Eva Maria, la nuova fatica letteraria di Santa Fizzarotti Selvaggi. Il libro nasce dal contesto del decennale della dipartita di padre Diego Pedone, con il quale l'autrice ha sviluppato un cammino di fede che l'ha ispirata nella realizzazione del suo libro. Un'analisi dettagliata e interiore su una serie di passi e salmi delle sacre scritture, attraverso i quali si affermano forti radici francescane, trasmissibili non soltanto a credenti e praticanti, ma anche a ciascun lettore, che decide di avventurarsi in una digressione interiore per giungere ad una concreta conclusione. La fede cristiana trascende ogni tempo ed ogni cosa perché è profonda. Una curiosità, il sogno, il sogno di Dio potrebbe essere una curiosità sul titolo, da Eva a Maria. Siamo fatti della materia dei sogni, dice Shakespeare. E io ho immaginato che l'essere supremo ha sognato, essendo materico, spero che nessuno mi metta a rogo, ha sognato questa nostra umanità e da Eva a Maria tutto quello che poi è accaduto nella storia, da un no di Eva a un sì di Maria. E quindi un ribaltamento assoluto delle condizioni della donna. Diverso, no? È stata riscattata da quel sì di Maria. Credo che sia la donna più moderna che la storia dell'umanità abbia avuto.